Cavaliere Amazzoni bentornati sul mio canale. Oggi super puntata in quanto salterò con Angel e faremo la nostra prima linea con il primo Oxer. Ho posizionato due salti in linea a 16 metri di distanza uno dall'altro. Il primo che lo farò entrando al trotto ha una barriera davanti a circa 2 metri 50 e due barriere laterali che mi aiutano a tenere la direzione. Il secondo che poi passaggio dopo passaggio diventerà un Oxer ha sempre una barriera davanti ma leggermente più lunga perché lo farò venendo al galoppo quindi l'ho messa a circa 2 metri 80 e le due barriere laterali anch'esso. Il primo Il primo Il primo Il primo Per iniziare farò un paio di volte solamente il secondo elemento della linea in modo che Angel impari a conoscerlo già. Quindi ho messo la barriera a terra per venire al trotto a 2 metri 50 Io lo faccio vedere una volta prima La linea l'ho posizionata in direzione dell'uscita del campo e della scuderia e al centro in modo che posso farla sia da destra che da sinistra Ok siamo pronti per provare a fare la linea Farò entrambi gli elementi Il primo entrando al trotto e il secondo cercando di continuare al galoppo e fare 4 falcate Ovviamente la prima volta non so come sarà e mi concentrerò più che sulle falcate di galoppo su tenere la direzione e portarla a centrale anche nel secondo elemento. Il primo 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 Ho saltato un pochettino il verticale prima di mettere l'oxer, vediamo come si comporterà Angel. Angel ha saltato quasi un po' troppo, adesso cercherò di rifarlo un'altra volta cercando di tenerla serena, tranquilla, che prenda un po' di fiducia. Questo è un esercizio molto buono per i puledri, per insegnarli a saltare le prime volte al galoppo perché è una distanza obbligata e quindi il cavaliere deve soltanto preoccuparsi di tenere il cavallo dritto e che appunto continui al galoppo e arriverà sempre una bella distanza sull'oxer o sul verticale del secondo elemento della linea. Top ragazzi, direi che la qualità non manca, sono molto contenta, l'unica cosa faccio un po' fatica a tenerla dritta, a tenerla a direzione, quello verrà con un po' di tempo e di esperienza in più, adesso proviamo a mettere un piccolo oxerino. Angel ha saltato benissimo, è quasi un po' troppo, ma è un po' troppo. per i miei gusti, per quello ho preferito rimanere su saltini abbastanza bassi, fin quando lei non sarà serena su queste altezze non andrò assolutamente oltre. Penso comunque che sia una cavalla con moltissimo rispetto, grinta, forza, quindi diciamo proprio il mio genere. Sono molto contenta di averla in scuderia e spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, vi aspetto sul gruppo Telegram e alla prossima puntata. Ciao ciao! 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 Ciao!